Grazie a tutti. Che pena, ti devo due caffè Luca? Non ho parole, non ho parole. Il titolo è tutto un programma, vediamo di farvi capire un po' che cosa sarà questo titolo. Grazie a Luca, uno dei nostri sponsor, e adesso per i prossimi 6 minuti e 40 senza il controllo del telecomando, perché ce lo siamo mantenuti noi, vi intratterrà con questo argomento. Un applauso. Mi chiamo Luca Caucchioli, sono di iBuildings Italia, in quanto iBuildings è una società olandese, ve la presento in due parole per poter avere un'idea di quello che siamo e dove siamo. iBuildings di fatto è una società che nasce nel 99 e quindi a livello pratico siamo consulenti europei per quello che è la parte delle tecnologie open source. Abbiamo la nostra sede che è in Olanda e oggi in pratica abbiamo anche la nostra sede in Italia, Milano, per poter seguire quelle che sono tutte le nostre realtà italiane. I nostri skills vanno da quella che è l'analisi dei progetti, dalle competenze, al lavoro di team, a quello che è la gestione del cliente, soprattutto anche dell'utilizzo delle tecnologie open source, dei feedback che i clienti ci danno, del maintenance di tutte le applicazioni che generiamo e per raggiungere quello che per noi viene definito il grado di eccellenza. I nostri servizi oggi sono legati al mondo dell'enterprise CMS, quindi sviluppiamo quelli che possono essere portali Drupal, abbiamo la possibilità di sviluppare applicazioni mobile e web con tecnologie molto avanzate, facciamo il system integration, quindi ci occupiamo di integrare quelli che sono i nostri sistemi con le realtà dei nostri clienti e soprattutto siamo rivenditori di quello che è il mondo a trassi, anche se qualcuno di voi conosce, però è per la gestione dei progetti all'interno delle aziende. Il nostro obiettivo ovviamente è quello di realizzare progetti a livello enterprise, per poter far sì che le aziende siano effettivamente felici di collaborare con noi. Vi do un attimo quelli che sono i feedback dei nostri clienti, abbiamo un 75% dei nostri clienti che di fatto continua a rivolgersi a noi per andare avanti con i suoi progetti e un 50% dei clienti che in realtà ci reputa più un advisor tecnologico europeo, quindi ci chiedono consulenza e assistenza su quelli che possono essere i loro sviluppi futuri anche a livello europeo. Ma arriviamo all'argomento del giorno, quindi l'usabilità del documento sostenibile. Che cosa intendevo quando ho scritto questa frase che tra l'altro è nata in un momento molto creativo della mia vita? In realtà intendo dire che non esiste di fatto documento sostenibile, ovvero non esiste un documento digitale, se non supportato da un qualcosa che sia usabile e tecnologicamente apprezzato dagli utenti. Ma andiamo a definire un attimo quello che è il concetto di usabilità, che oggi l'abbiamo visto e abbiamo capito che effettivamente ci sono vari modi per poterlo definire, comunque sia ci sono varie strade. L'usabilità di fatto è comprendere il perché si va a sviluppare un determinato progetto, capire soprattutto qual è il feedback che gli utenti danno su quella che è la prima, magari il primo prototipo di questo progetto. Usabilità vuol dire anche un punto di vista dell'utente, quindi andare a studiare quello che l'utente vede e quello che l'utente vorrebbe in quell'applicazione. E poi ci sono le famose 5 E. Le 5 E che cosa sono? Sono l'efficacia, l'efficienza, il coinvolgimento di questa applicazione, la tolleranza dell'errore e poi quella che è la facilità di apprendimento. Quindi la possibilità di avere questa facilità di apprendimento. Le frasi che vedete sotto sono solo quello che in un certo senso vi ho appena detto. Vediamo un esempio di usabilità che effettivamente non c'è. Tutti voi sicuramente avete approcciato questi tipi di strumenti dove non c'è interfaccia, non ci sono pulsanti, non ci sono spiegazioni. Non oso pensare quale sia stata l'idea di colui che ha progettato questo strumento, però di fatto qui non c'è nessuna delle 5 E che abbiamo visto prima. Prendiamo invece un esempio un po' più concreto che sicuramente avete utilizzato tutti oggi. Tutti quanti oggi noi abbiamo utilizzato Airbnb. Airbnb è di fatto un'applicazione che ci consente di essere felici quando la usiamo perché otteniamo in fretta l'obiettivo. Siamo efficaci perché con pochi clic riusciamo a raggiungere quello che è il nostro obiettivo, quindi di cercare una locazione in qualsiasi città europea o mondiale. Abbiamo la possibilità di essere coinvolti perché dal punto di vista pratico abbiamo feedback, abbiamo immagini, abbiamo tutta una serie di cose che ci tengono attaccate a questa applicazione. E poi sinceramente mia mamma l'altro giorno ha prenotato un appartamento a Milano perché voleva venire a trovarmi e mia mamma ha 62 anni, signori, quindi non ha mai usato un computer e di fatto è riuscita comunque a prenotarsi il suo Airbnb. Andiamo a capire quali sono però anche i benefici di un documento sostenibile. Soprattutto il risparmio perché dalla carta si ha il digitale, quindi di conseguenza non esiste più quella spesa nella stampa della carta o dell'utilizzo della carta. Si ha velocità perché dal punto di vista pratico il documento digitale lo si può gestire e lo si può soprattutto anche spedire o ricevere in modo molto veloce senza tempi troppo lunghi. Abbiamo sicuramente il processo perché la carta è un po' complicata da gestire a livello di processo, invece il documento digitale può essere inserito in un workflow di utilizzo per il processo degli acquisti piuttosto che per le vendite o anche per quello che potrebbe essere l'ordinato dei clienti. Abbiamo la condivisione, abbiamo i legami che possono essere fatti con i documenti digitali, il fatto di poterlo prendere e tenere in mobilità e soprattutto la sicurezza perché un documento digitale può essere anche protetto. Vi faccio un esempio di alcuni numeri relativi proprio al risparmio che si ha nell'utilizzo dei documenti digitali, quindi dei documenti sostenibili. Un'azienda che ha dei costi di registrazione e fattura molto alti, fino a 4,50 euro a processo, riesce con i documenti digitali a ridurli fino a 1,50 euro. Vi parlo un attimo di che cosa vuol dire per noi andare a disegnare e costruire lo UX all'interno di iBuildings, che sono tutte queste fasi che di fatto ci consentono di creare quelle applicazioni che come abbiamo visto prima a livello di Airbnb ci danno feedback positivi e ci danno soprattutto un successo a livello di utilizzo. Questi sono tutti gli step che all'interno della nostra azienda riusciamo a gestire, quindi a collaborare assieme con il nostro cliente per poter creare delle interfacce soprattutto di successo. E io con questo ho finito e nei miei sei minuti sono riuscito a dirvi quello che dovevo dire. Grazie mille. Se avete curiosità o se avete anche bisogno di qualche... mi sta ricordando che è finito il mio momento. Ok, se avete curiosità noi siamo là e quindi possiamo... Se avete delle domande alzatele adesso e fatele ora oppure tacete per i prossimi 20 minuti che c'è il talk di Stefano Maggiore che ci seguirà. Altrimenti Luca è appunto in quel tavolo là insieme alle altre due colleghe di iBuildings. Lo ringraziamo e... È stato un piacere. A presto. Grazie a voi. Ciao. Buon proseguimento. Grazie. 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 Grazie.